www.redigio.it e la storia continua I giorni dell'odio E dagli allontore Alla metà del XIV secolo, in concomitanza con la grande epidemia della peste, si scatenò un'ondata di violenza contro gli ebrei, che vivevano nei paesi cristiani, accusati di avvelenare pozzi e di diffondere l'epidemia. Molti di loro trovarono la morte o per mano della folla inferocita o sul rogo, subito dopo processi farsa. Se la crisi di metà Trecento ebbe come conseguenza l'annientamento di una parte della popolazione ebraica e una drastica riduzione delle terre nelle quali agli israeliti era consentito vivere, va però detto che il processo di esclusione degli ebrei dalla società cristiana aveva avuto inizio ben prima e che i segnali di un progressivo irridigidimento delle autorità civile come quelle religiose nei loro confronti si erano moltiplicati nel corso dei secoli precedenti. Con il IV Concilio Lateranense, 1215 ad esempio, agli ebrei venne vietato di comparire in pubblico durante la settimana santa e si stabilì che essi dovessero essere immediatamente riconoscibili mediante l'imposizione di un segno distintivo. Un segnale significativo del mutato atteggiamento della Chiesa è costituito inoltre dal controllo che, a partire dai primi decenni del 200, le autorità ecclesiastiche ritennero di potere e dovere esercitare in tema di ortodossia ebraica e che ebbe come conseguenza l'attacco a opera dei domenicani e francescani al Talmud ritenuto come deviazione rispetto alla tradizione biblica. Tra il XIII e il XIV secolo in molti paesi europei si inserirono nella legislazione civile norme intese a limitare i diritti della minoranza ebraica e a favorire la separazione tra ebrei e cristiani. Ai primi fu vietato, ad esempio, di tenere al proprio servizio servo i cristiani e in particolare le baglie per i propri figli di curare pazienti cristiani di vivere nella stessa casa con cristiani questa normativa in parte recepiva e in parte diffondeva l'immagine dell'ebreo come intoccabile contaminatore di cibi e di bevante assimilabile in qualche misura ad altre categorie marginali del mondo tardo-medioevale quale le prostitute e i lebrosi. Non a caso, a partire dal 200, si moltiplicano anche le ordinanze intese ad evitare il rischio della contaminazione ebraica degli alimenti messi in vendita nei mercati sempre più spesso. Agli ebrei viene vietato di toccare la merce esposta con l'obbligo per i contraventori di acquistare a prezzo stabilito dal venditore. Le espulsioni che pur si intensificarono dopo la metà del 300 avevano avuto inizio già qualche decennio prima. Gli ebrei erano stati cacciati dall'Inghilterra nel 1290 e dalla Francia nel 1306 e 1322. Nei decenni successivi alla peste la tendenza all'eliminazione degli ebrei dai regni europei subisce comunque un'impennata. Nel 1394 vennero espulsi quelli che ancora dimoravano nella Francia del Sud e tra l'inizio del 400 e i primi decenni del 500 decreti di espulsione vennero promulgate in molte regioni tedesche. In Spagna e nei suoi possessi 1492, in Provenza 1498-1501 e nel regno di Napoli 1511. I profughi trovarono asilo soprattutto nei territori dell'impero turco e nell'Europa orientale, in Polonia e in Ungheria. Gli ebrei assommarono ormai attorno al 1490 rispettivamente a 30.000 e 20.000 individui. L'ostia profanata Le persecuzioni di cui fu oggetto la popolazione giudaica nei paesi cristiani furono spesso legate a una concezione diabolica dell'ebreo, capace secondo tale ottica di compiere anche azioni delituose in odio alla fede cristiana. Per quanto fantasiose possono oggi apparire, due fra le accuse comunemente rivolte agli ebrei ebbero spesso epiloghi tragici, quella di profanazione dell'ostia e quella dell'omicidio rituale. L'acquisto illegale di un'ostia con l'intento di compiere su di essa atti dissacratori è ad esempio il tema del ciclo Urbinate dipinto da Paolo Uccello come predella per la pala con la comunione degli apostoli di Giusto di Gand nella chiesa del Corpus Domini e ora conservato sempre a Urbino nella Galleria Nazionale delle Marche. La serie di pannelli attempera la figura a una donna che dopo avere sottratto un ostia consacrata la vende a un ebreo. Quest'ultimo la porta a casa e inizia a friggere in padella di fronte ai familiari. La giustizia divina colpisce naturalmente tutti i protagonisti della vicenda. L'ostia inizia a sanguinare copiosamente e la profanazione viene scoperta a quel punto la donna reacconfessa viene impiccata mentre l'ebreo è condannato ad essere bruciato vivo assieme alla moglie e ai figli. Gli ebrei soprattutto quelli dimoranti nelle terre d'Oltralpe furono spesso anche accusati di commettere omicidi rituali che sarebbero consistiti nel rapire un fanciullo cristiano torturarlo di solito metterlo in croce e infine ucciderlo in modo da usare il suo sangue per impastare le azime in occasione della festa del Pesach la Pasqua ebraica l'accusa di omicidio rituale è ampiamente testimoniata in Europa nel corso del basso medioevo anche se l'epoca delle prime attestazioni è diversa da paese a paese in Italia il caso probabilmente più famoso di omicidio rituale è quello di Simeone da Trento 1475 che portò allo sterminio della locale popolazione ebraica www.redigio.it e la storia continua